Ormai sono diverse settimane che Schumann è rinchiuso qui e ancora, nonostante le mie reiterate visite, non mi hanno concesso di parlarvi. Continuano a dirmi che la vista di una persona amica può avere effetti negativi sulla sua salute. Mi sembra strano, tuttavia mi adatto alle circostanze con riserva. Credono infatti che il vedere me o altri amici o la moglie potrebbe rendere il più doloroso il ricovero. Ma, per quanto ne dicano, è ben cosciente di essere internato per una malattia della mente. Non c'è bisogno di ingannarlo su questo. Rendersi conto di essere privato della libertà non dovrebbe peggiorare la sua situazione. Sentirsi privato degli affetti più cari, sì. Questo, almeno secondo me, i colloqui con le persone amiche dovrebbero altrimenti rasserenarlo. Ma qui non la pensano così. Come se temessero che la loro presenza potesse diminuire l'influenza che i dottori esercitano sul paziente. Hanno paura delle possibilità che le più di ricovero e quindi la cura. Quale essa sia, non so. Certo, io avrei altri modi per sollevare il suo spirito. Grazie. 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 Grazie.